Ciao ragazze, siccome aprile è il mese dello stomaco e ci sono tante di voi che riescono ad allenarsi per vari motivi solo sulla sedia, quindi a fare allenamenti comodi o anche per chi non ha troppo tempo perciò approfitta dei ritagli della giornata per poter fare gli esercizi in qualsiasi momento ecco uno speciale per la nostra pancia e ovviamente tutto quello che ci sta dentro, stomaco compreso Iniziamo subito Questa volta non sto intietro ma sto sul bordo della sedia, sempre la soggiorno del nono Loris e inizio ovviamente, prima sempre si scalda, inspiro in arco Butto fuori, risucchio bene l'addome Questo fa benissimo, anche al tutto il nostro sistema nervoso autonomo Quindi proprio un riscaldamento di tutta la colonna, dal tratto occipitale fino al corcice Soprattutto se lo fate bene Chiudete bene, buttate fuori l'aria Non lo saltate mai pensando che comunque tanto non serve a niente Non è affatto vero Se lo fate bene sentite proprio lavorare i muscoli, quindi è proprio un esercizio Non è solo riscaldamento Poi, con le braccia dietro la nuca inizio a fare le torsioni senza mai trattenere il respiro Quattro, cinque, sei, sette, otto Tenete bene l'addome Nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti Beh, sciogliete bene le spalle E ora iniziamo Con prima una gamba La tiro su, vedete la mia schiena è un paletto Non faccio strani movimenti con la schiena Quindi dovete lavorare solo con la gamba Tenendo bene l'addome Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci Altra parte Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci E ora lo facciamo insieme Uno, mi raccomando Stessa cosa Se non riuscite a non sollecitare la schiena Non lo fate, ok? Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci Perfetto E ora di nuovo Ora vado ancora più veloce Ma lavoro sempre i muscoli Noi siamo pronti per un'altra serie Uno, due, tre, quattro Tenete l'addome Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Vai Undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti Seconda serie dell'altro Uno, due, tre, quattro Pensate poi alla vostra farmi uccidino appunto Dio, dita, dico stomaco Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci Cinque minuti ma intensi anche sulla sedia Che ci permettono di avere tutta questa zona bellina, calda, funzionale, asciutta Che è proprio un vero e proprio massaggio dei visceri Che ci farà avere un addome più sgonfio e un punto dita più sottile Alla prossima E non perdete mai lo stimolo e la forza E non perdete mai lo stimolo e la forza